benvenuto al mio seolotto dove faccio accomodare persone interessanti con le loro interessanti idee su business e marketing continua la mia chiacchierata con marco ronco parlando di quello che è il suo endgame ovvero ciò che vuole ottenere o per meglio dire fare attraverso la sua attività di imprenditore buon ascolto ma tu quanti quanti progetti hai attivi adesso se posso chiedertelo se ne hai un'idea perché magari sei uno di quelli che ne ha talmente tanti che te ne scordi pure ma parli di clienti o progetti miei di progetti tuoi tuoi di marco proprio c'è posizionamento c'è cro che è un corso che stiamo facendo sempre con gabrile matteo gli altri che inizialmente ti dicevo sarebbe stato questo corso enorme che avrebbe avuto dei costi anche enormi perché troppo grande e invece abbiamo deciso magari di spezzettare in mini corsi più piccolini centrati su un argomento quindi questo è un altro che sto facendo e poi te ne avevo parlato proprio a serious monkey sto facendo un videogioco stile monkey island esatto e qui ti volevo sgridare non mi è mai arrivata la demo ci sono rimasto male subito 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 adesso te la mando te la mando me l'ero segnato che è il videogioco ti devo sgridare davvero non te l'avevo mandata subito 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 te la mando or ora mentre stiamo parlando su facebook vai guarda mi devo devo fare un ritiro in montagna me la gioco tutta un punto e clic mi ricordo bene nel frattempo mi hanno passato di di sotte chi la la copertina che abbiamo realizzato per il videogioco c'è leonardo qui che me l'ha passato allora aspetta dove dove è finito qua facebook ma l'hai fatto sempre dentro meta line no 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 qui come passione personale ok te l'ho appena passato per windows e per mac vai se ci sono ascoltatori l'ascolto a cui piacciono le vecchie avventure grafiche vogliono provarlo gratuitamente te lo dicono Emanuele glielo possiamo dare assolutamente ma in italiano anche in inglese come siete messi a che punto siete allora il primo atto è finito l'idea è di fare praticamente sono quattro atti e per ora dipende quanto scafato sei ma il primo atto di solito mediamente un gameplay dura quattro ore quindi quattro da 16 ore dovrebbe essere il totale del gioco se se il beta test in questa fase passa e volevo fare un kickstarter e e vedere insomma se le persone possono essere interessate anche perché le animazioni costano tu non hai idea di quanto costano le animazioni guarda non ho un'idea dei soldi ma forse ti avevo raccontato c'è un amico che disegna per la marvel e ho visto quanto ci si mette a fare quelle robe lì una roba tosta pazzesca assolutamente sì poi tu sei bravo con la musica quindi potresti darmi una mano su quello se vuoi mamma mia magari io io ascolto solo due robe ascolto musica di videogame e musica giapponese ultimamente musica di videogame è fantastica perché dalla limitazione nasce la creatività c'è niente quando c'hai sei canali quando hai aspetta cos'era quattro canali audio il ness e di cui uno dove puoi mettere dei sample se tu ti ascolti per esempio la la colonna sonora di mother e che è il primo capitolo di earthbound non so se l'hai mai giocato quella colonna sonora è pazzesca tra l'altro ci hanno fatto un vinile cantato pazzesco che devo comprare assolutamente devo recuperare e se la musica di videogiochi bellissima ma guarda è molto interessante tu questa cosa lo stai lo fai per passione ma per esempio lo distribuirai tipo lo vuoi mettere che non so sui marketplace tipo steam sì 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 allora lo faccio certamente per passione è una cosa che volevo fare fin da quando ero bambino da quando avevo giocato appunto i primi monkey island diana jones quelle robe lì però sì pensavo anche di venderlo poi in realtà non è che ci voglio fare i miliardi è solo il fatto che c'è un mio prodotto là fuori no ho qualcosa da dire nel mondo anche dei giochi e chi lo sa magari qualcuno farà piacere sentire quello che ho da dire col fatto che tu hai questo cioè tu hai un e qua è l'altro argomento pratico al quale volevo arrivare tu hai esperienze in una cosa che viene molto sottovalutata cioè la distribuzione anche anche da noi seo viene sottovalutata spesso per assurdo perché tu va bene ti concentri a ottenere del traffico quando fai seo no però un prodotto va distribuito che è una cosa diversa che non vuol dire che devi fare anche le ads ma vuol dire che c'è tutto un processo dalla presentazione a te lo metto in mano no che è detta così suona molto male ti faccio avere il prodotto ecco te lo metto in mano te lo metto ecco passa poco quindi bisogna stare bastava pochissimo e molto interessante quindi dicevi hai questo anche questo progetto del gioco e poi hai altri progetti sul web di cui puoi parlare cioè volevo capire bene quali erano le dimensioni del portfoglio tra virgolette di attività di qualcuno che l'idea è molto chiare e che sta andando verso un obiettivo che anche questo ci accomuna cioè di avere la tra virgolette la pensione a 40 anni cioè avere la rendita per fare quello che vuoi per esempio il secondo capitolo del tuo videogioco che se anche vende 10 copie non te ne frega una ceppa perché tanto tu sei a posto sì ma guarda ti dirò i progetti che che ho in piedi che a parte posizionamento che lo sei già spider ads adesso con roberto bizzarri cro quindi diventano cro e sempre con conversion rate optimization scusa sì conversion rate optimization sì sono sono principalmente questi tre con il videogioco da io credo che siano più che sufficienti per ottenere quello che voglio l'endgame è di e di venderne uno di fare l'exit cioè cosa ci vuoi fare o vuoi crearti semplicemente delle rendite che vanno avanti a schifio cioè nel senso proprio la seconda che hai detto la seconda perché comunque mi permette di fare quello che voglio cioè è quello che voglio essere qui quindi nel senso ci sono già ci sono già praticamente arrivato cosa mi manca in più dire che ok invece di andare in montagna a lavorare perché posso farlo così prossima settimana posso essere a los angeles e poi a tokyo questo nel futuro mi piacerebbe farlo ecco però vado in montagna invece di lavorare mi leggo un libro anche 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 cioè poter avere la delegare qui anche quello che faccio io adesso come imprenditore che si può fare per carità la libertà si 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 libertà ti faccio una domanda però proprio su questa tua progettualità cioè tu non hai paura che cambino velocemente le cose che ti crollino un po' addosso questi prodotti per esempio che stai facendo su un sistema molto specifico io per esempio sono convinto che internet così com'è tra cinque anni non ci sarà più ma assolutamente le cose cambiano però fa parte del gioco nel senso che sì ma allora anche fare un videogioco io sto programmando un videogioco che esce da quello che era monkey island che è uscito nel 1990 anche oggi ci sono avventure grafiche quindi giochi simili a quelli che voglio fare io che vengono venduti molto spesso c'è anche un ritorno al passato quante copie può vendere un videogioco 100 mila 10 mila vabbè timbalweed park sempre di ron gilbert ha fatto due due milioni e passa su pc non so se si è venduto molto bene ma anche katy rain che non so se hai mai sentito è un altro videogioco che ha sfiorato le due milioni di copie quindi in realtà se tu pensi a una cosa del genere ok magari non vendi le due milioni di copie però metti anche che fai che ne so riesce a vendere 300 mila copie di un videogioco che mediamente sta su 14 euro vuol dire che hai fatto 4 milioni di euro se tu vendi 300 mila cose anche 300 mila fazzoletti dei soldini in tasca te li sei messi infatti quindi diciamo che poi sta a te l'abilità anche di tenerli reinvestirli o usarli come credi insomma però anche posizionamento cioè posizionamento l'abbiamo visto prima ha fatto 300 e passa mila euro sta poi nell'abilità anche della persona riuscire a rinvestire diciamo far fruttare no come si dice i soldi spendere i tuoi soldi per fare altri soldi fino a che arrivi dove vuoi che sia il tuo tenore di vita cioè se il tuo tenore di vita è io voglio tutti i giorni mangiare fuori al ristorante però non voglio muovermi nella mia città e sono felice così allora bene che sia quello se il tuo tenore di vita è vuoi il macchinone strafigo che per esempio a me non interessa allora avrai bisogno di monetizzare di più no cioè cerca di capire un attimo cosa fa felice te cosa ti fa star bene quando sei arrivato a quello poi questa è una cosa personale che io ti dico cioè se tu sei già arrivato a un punto in cui dice ok da qui in poi io sto bene tutto ciò che in più darlo qualcun altro cioè aiuta le persone che che stanno facendo il tuo stesso percorso stanno cercando di farcela dagli una mano perché alla fine anche i soldini sono solo tempo cioè è un per fare le cose ci vuole tempo dei soldini che tu dai a qualcuno in un progetto in cui tu vai a contribuire significa che dai del tempo a questa persona quindi gli fai risparmiare tempo i soldini per esempio servono a risparmiare tempo questo potrebbe essere secondo me il modo migliore per per investirli se sei già arrivato ovviamente avere queste come si dice questi queste entità diciamo queste attività che mi danno fatturato mi metterebbero addosso c'è dell'incertezza cioè tu sei comunque l'hai fatto capire conscio che può finire quindi tu sei pronta anche a dire bene me ne scoppiano tre su quattro ne farò altri tre buona sostanza si può succedere perché lo stesso covid c'è chi poteva prevederlo quindi ci sono dei momenti nella vita di tutti in realtà in cui ti capita l'imprevisto l'unica cosa da fare in quel momento è rimbocarsi le maniche fare del proprio meglio per il limite chiamiamolo così perché c'è stato sia il lutto purtroppo di persone vere ma anche il lutto nel senso di perdita di posti di lavoro eccetera è sicuramente una cosa bruttissima però si dovrebbe cercare di non mollare a quel punto perché sennò si va peggio ancora e non aver paura di reinventarsi anche se siamo in là con l'età perché comunque grazie al web anche oggi un pochino ci si può ritirare su e si può veramente cogliere tante opportunità che magari prima non pensavamo nemmeno grazie per aver ascoltato seolotto se ti è piaciuto questo episodio un like un commento sulla tua piattaforma di podcasting preferita mi aiuta a crescere e mi dà la carica per andare avanti grazie per aver ascoltato fin qui e buon proseguimento alla prossima carissimo carissima cosa ci fai ancora qui allora questo è un po' un easter egg per chi vorrà ascoltare fino alla fine nonché mi serve come sfondo per il next video su youtube comunque sia d'ora in poi qua sentirai dire un sacco di boiate temo e quindi se è scaldato fin qua grazie ancora alla prossima ciao